Sono stati premiati per la migliore sceneggiatura al Giffoni Film Festival, si sono calati nelle atmosfere tra i personaggi della Cittadella del Cinema per un'esperienza che ha lasciato loro un ricordo indelebile. Sono gli alunni della 4A dell'Istituto Comprensivo di Policastro Bussentino che durante l'anno hanno partecipato, sotto la guida della maestra Alina De Roberto, al concorso indetto da Eli Edizioni La Spiga e il GFF Leggi, Scrivi, Azione, che punta a rendere gli alunni della scuola primaria, protagonisti del festival, non come giurati ma come interpreti di un film, avvicinando il mondo della lettura a quello del cinema. Gli studenti di Policastro hanno scelto così di leggere insieme, tra i libri proposti, il volume Il Giornalino di Luca, una storia incentrata sui temi della mafia e del bullismo e di riscrivere una rielaborazione creativa della stessa, una sceneggiatura insomma, inviandola al concorso che avrebbe premiato una tra le storie finaliste con la realizzazione di un corto di 30 minuti tratto dal copione e girato proprio nella scuola vincitrice. Gli alunni di Policastro hanno mantenuto l'originalità della trama ma contestualizzato tutta la vicenda nel loro plesso, senza tralasciare neppure personaggi minori per far partecipare tutti gli alunni e rielaborando il finale, redimendo in qualche modo il cattivo di turno. La scuola di Policastro, unica campana, è arrivata tra i quattro finalisti nazionali e la sua rielaborazione della storia ha convinto a tal punto da farle ricevere il premio per la migliore sceneggiatura. Tuttavia, dopo un serrato testa a testa con una scuola di Roma, alla fine è stata quest'ultima ad aggiudicarsi la realizzazione del corto nel proprio istituto. L'esperienza però è rimasta da incorniciare. I ragazzi della Quarta A sono saliti sul palco del GFF spuntandola tra oltre 100 scuole, hanno vissuto una giornata nell'affascinante cittadella del cinema e hanno soprattutto assimilato il piacere della lettura, l'importanza dei nuovi linguaggi mediatici e dei valori assoluti veicolati dall'iniziativa come la libertà e la verità. Ora la targa della vittoria fa bella mostra di sé nella stanza della dirigente Maria De Biase, ennesimo trofeo di una scuola ricca di iniziative.